Vediamo se ci risiamo, vediamo se ci siamo, ci siamo, ci siamo Questo gioco parte? Ragazzi mamma mia Sto soffrendo, tra l'altro, eh niente 1080p, avevo il multi quality e ora non ce l'ho più Niente, quindi Questo gioco non so se vuole partire Forse sì, forse no Siamo, oh, finalmente Ok, a quanto pare, ragazzi, non funziona più niente, è zoppato tutto Vediamo se ci, niente, sì, ormai Allora, crashando New World mi ha fatto crashare la scheda video Mi ha fatto crashare tutto, ragazzi, è saltato in aria Però adesso Niente, non Tra l'altro mi ha tolto i personaggi Oh, non lo so Nessun mondo disponibile Soltato tutto, ragazzi, volevamo giocare E non si può giocare Grande Amazon, con tutti i miliardi che tieni Pensi a lanciarti nello spazio Piuttosto che sistemare dei cazzo di server Vabbè, eh, ragazzi, mi sa che New World è proprio saltato Aspetta, rispondo Sì, ragazzi, io sto cercando di genare Ma niente, non funziona nulla Per quanto riguarda stavolta i personaggi A quanto dicono che Permettono di fare un switch di personaggio Da un server all'altro in modo gratuito Però non Non sono riuscito almeno a capirlo Se funziona, perché è saltato in aria tutto E... ragazzi, niente Mi sa che ci andremo a giocare a qualcos'altro Che cosa vogliamo giocare? Sì, vabbè, dai Abbiamo capito Non funziona niente E usciamo Basta Non si gioca Allora, allora Ci giochiamo Valorant, dai Anzi, tra l'altro non ci sto Non l'ho manco aggiornato, quindi Ok Vediamo gli altri che dicono Tutto questo Curo Lili è ancora Ancora in game Ma come fa a gioinare subito Curo Lili? E io no Come cazzo è possibile? Ma che sfiga Ragazzi, qua Qua c'è qualcosa che E mi puzza Qua c'è la gente che c'ha La possibilità di gioinare Prima degli altri Allora Nel frattempo Spessiamoci in just chatting Ah, giustamente Non funziona ancora L'iron board Che è crashato tutto Quindi Aspettate Ecco qua Sì, sì Messo Just chatting Facciamo? Facciamo? Ci siamo Perfetto Ok Abbassa qua Nel frattempo Allora Sì Sì No Valorant Che è la Riot Viene l'accesso Ho 7000 anni Per giocare a Valorant Perché è una vita che non ci gioco E niente Ci ha scammato Amazon ragazzi Quindi Ad altri Fa gioinare A me no E quindi E poi tra l'altro Accuralili L'ha fatta entrare Subito E gli altri Gli ha buttati fuori Devono tornare Tutto da capo Poverini Immagino Il dolore Nelle loro Verifiche in corso Allora Non possiamo giocare a Valorant Eh beh Sì Streaming Buonanotte Altrimenti Altrimenti A cosa giochiamo A cosa giochiamo Vediamo qua Che cosa ci sta C'è un po' di Crash Bandicoat Ma sì Dai Wow 2 giga ragazzi Un quarto d'ora Dobbiamo mettere Scaricare E tra l'altro Mi sa che mi starà Succhiando La peggiore Delle bande Ah Facciamoci Mettiamoci Da fuoco Della camerina Così Perfetto Allora Vediamoci La bandana Che abbiamo Riscosso Il premio Ciao Bandana E niente Aspettiamo Averci Aggiungere Su Valorant Agente Allora Per tempo Andiamo In messaggini A chi di dovere Allora 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 Vediamo se riusciamo A fare Qualcosina Vedere se anche Power Sta riuscito A giocare Ah Pubblicità Che palla Oh no Si sta avviando New world Speriamo che non mi faccia Crashare tutto Un'altra volta Come prima Oh I capelli Maledetta Bandana Allora Stiamo vedendo Power ci sta Non stanno tutti Solo che noi Non riusciamo a entrare Ragazzi Vediamo Se ci fa Cionare Andiamo da Uro Lili Cambia poco Oh Ciao Chiaretta Aspetta Che devo mettere Questo Se no Non leggo La chat In tempo Pronto a farti Due reticote Per entrare In new world Si lo so E peggio La serena Reggio Calabria Lo so Lo so Ma tra l'altro Stavo leggendo La informazione Di un amico Che sta su Su Stava sentendo Accuro Lili Mi ha detto Che praticamente È possibile Andare su un server Anche meno popolato E magari Puoi trasferirsi E ti fanno Il trasferimento Gratuito Dove vuoi Voglio il suono Personalizzato Quale Denti Lo registriamo Lo registriamo Registriamo Cioè Lo registriamo In qualche modo Tanto posso fare Tutto con la Lyron board Perché con la Lyron board Signora Chiaretta Possiamo fare Un sacco di cose Allora No Questo mi sa Che non funziona Perché Per farti vedere Cosa si possono Riscattare Allora Con i bit Con i bitini Si possono Riscattare Queste cose Che adesso Ti faccio Vedere Allora Come posso Farle vedere Senza Far saltare In aria Tutto Così Allora Meo E' questo Aspetta This is Jack Jack il gatto Wow Wow Che è veramente Così la sua voce Ah sì Giusto Acqua Eccolo lì Carminuccio Buonasera Sei Carminuccio Giusto Carminuccio Ho detto Un cazzo Per un altro Addirittura No E' Aldo Carissimo Esattamente Solo con un altro Caro Aldo Stai anche in live Infatti ti abbasso Un pochettino Oggi Stasera Sì Sto in live Sto in live E tra l'altro Se vieni in live Adesso vedi Con i bittini Cosa puoi riscattare Cosa Nel frattempo Però Aldo So che tu sei Molto assetato E quando si è assetati Cosa che si Oh Questo è il suono Di New World Ragazzi Mi è partito Quando si è molto assetati Si deve bere molto di più Si deve bere il doppio E non con un'acqua normale C'è solo un'acqua Che riesce a dissetarti Il doppio del tempo Il doppio delle volte Il doppio Il doppio di tutto Il doppio dell'acqua Il doppio del dissetamento Ti toglie Ed è acqua L'unica acqua Con il doppio delle Q Tra l'altro In questi giorni È l'unica acqua Che ti va a fare Slurp e slurp Chiaretta Slurp Vedi L'unica acqua Sta anche qua Marche di fabbrica Slurp e slurp Tra l'altro Non so se hai notato Che è cambiato un pochettino Le immaginette Dei punti riscattabili Cioè non ho gli punti riscattabili Però quelli all'interno Ciò che puoi riscattare Ci ho messo un po' di emot Diverse Che magari in futuro Possiamo rendere Proprio anche delle emot Se riusciamo a raggiungere Le sub goal Che stanno sopra Sbloccando un po' più di emot Ci sta l'emote Dell'acqua Che ho fatto la foto Alla bellissima borraccia d'acqua Di un marchio di fabbrica Di questo canale Ci sta Il gatto con la linguetta da fuori Il gatto nero Per prendere un gatto Poi c'è il gatto Sfatto Quello lì che Tra l'altro puoi riscattare Anche con i punti Con i bittini Signor Aldu Il gatto sfatto Mamma mia Eccolo lì Aldu Siamo a tutti Andiamo Andiamo La mia voce Corrutta Aiuto Ho riscattato Ho conquistato un drop Vabbè dopo Ora non mi interessa A prendere il drop E allora Cosa puoi fare Stavo facendo vedere a chiaretta Cosa si può Riscattare Con Allora Però devo cambiare Base Alert Io l'ho entrato Perché era lì online Pensavo che Era In live Quello infatti Aiuto Ecco qua Allora Cosa puoi fare Denti Il giro in moto Allora lo metto Come cosa riscattabile Adesso la posso fare Allora Signor Aldu Guarda qui Con Non so Ho letto I messaggi Te lo rimetto A parte che sono cambiate I comandi Ci sono alcuni comandi Gratis Tipo 1 1 Che sono nuovi Che sono questi qua Adesso ti lascio sentire E questo Poi di nuovo abbiamo Begli applausi Già li sapevi Però sono questi qui Un po' più soft Tero c'è sempre Tero c'è sempre Quello che non può mai cambiare Aspetta Non lo senti Perché Che dolore Che dolore Questo fa male Tra l'altro Adesso non si perde più Per la strada I comandi Perché Con la Lyron board C'è un sistema Di coda Che mi permette Di appunto Mantenere Anche i bit riscattati Non li perdi Ma dopo 38 secondi Di cooldown Riesci Ad averli Allora Con Sub Che cosa ne ho messo In sub No Denticulo non c'è più Il resto sono tutti Quanti uguali Bit donation Queste qua Se scrivi Esattamente quella parola Meo Vaffancazzo Ameno cut Tette Scoteca Con quel numero di bit Preciso Non sgarrare Succedono varie cose Ora Ok Cosa ti succede Facciamo Faccio vedere Gratis Una sola volta Scoteca No perché Scoteca è un po' Tutto particolare Per fare Scoteca Devi solo Riscattarlo Per vedere Allora Moda Il gatto Che c'ha un problema Alle corde vocali E c'ha questo Miagolio Molto greve Poi Ameno cat C'era la versione Di Ferdinando Non so Ti ricordi Di Ferb All'epoca Non lo ricordo Che per gli strikes Io però Ho rivoluto mettere Quell'originale Che tanto Me ne frega un cazzo Sono un canale piccolino Nessuno viene a rompere le palle Ed è questo qui Oddio ragazzi Il gatto spatto Mi uccide Mi uccide Siamo noi ogni mattina Il gatto spatto Ragazzi È bellissimo Ameno cat Oppure Effettivamente posso chiamarlo Gatto sfatto Concetto bit Poi Con Vaffanculo cazzo Che sappiamo bene È una frase Che sta anche tra l'altro Nelle cheat Vediamo se esce Vaffanculo cazzo Cazzo è uscito Vai Lo so Ho fatto uscire Vaffanculo cazzo Ho preso L'estratto migliore Tra le mie live Di vaffanculo cazzo Che è questo qui Vaffanculo cazzo Che era quella lì Resident Evil 3 In cui Vengo Prese di Dallo zombino Appiatto Che mi fa cagare sotto Poi Qual era l'altro Vabbè Scoteca Ameno cat Ah c'è tetta Tetta E oltre a far uscire Una cosa Il video Io prendo Perché Guarda Si guardi C'ho esattamente Questa tetta qui Che sta diventando Anche Me l'avevi detto Ancora non ho messo In mezzo Qualcosa Sul calco Dei denti E Però per tetta Ci sta Tetta con 150 abbiamo detto Giusto Si 150 Succede questo Però Appare Scompare Facendo questo suono Aspetta Fa così tipo Ecco Vedi come fa Fa così Questo però Tutto lo fa In automatico Il programmino Perciò io non lo posso Fare a mano Lo fa tutto lui Quando riscatti Fa queste cose Poi c'è Scoteca Che quando sarà Quando ci sarà Qualcuno folle Da donare 200 bittini Scrivendo Scoteca Beh Mi stai sfidando Mi stai sfidando No io Io non dico niente Io non dico niente Ah ok Va bene Ma puoi spiegare ad Aldo Il denti Se no mi prende per pazza No allora Aldo conosce Me come denti Perché lui c'è Dall'inizio De Dino Scrausi Quindi lui sa Quando è dentro Solo che Chiari e Chiara Ci siamo visti di persona Alla reunion Con un altro streamer Gian Maria Non so se lo ricordi E appena mi ha visto E urlando come una pazza E io ovviamente Ho risposto a questo Con Ovviamente urlando Come un pazzo Perché mi sembra anche giusto Dovrò anche riprendere E registrare questo suono E fare Come comando Chiara Che sarà Però poi Lo potrà Eseguire solo lei Ovviamente Io vorrei parlare Della persona Che è appena passata In mutande Si è vista Oh no Come è passata in mutande Si è vista Si è vista Eh beh ragazzi Che è successo Voi si è vista Ah vabbè Te l'ho detto Che stavo in live Non ti sei accorto No Non me l'hai detto Ah eh Non se ne è accorto Che stavo in live Vabbè ragazzi Si è vista Io lo potrò Maneggiare solo io Blah blah Come Eh si è passato Mio fratello in mutande Ragazzi Twitch adesso ci banna Perché ha visto Un capezzolo Probabilmente E niente Chiude un po' la porta E beh Non hanno chiuso la porta Niente Ah tra l'altro Oggi il gattino nero Ha deciso Ovviamente Di farsi del male Ecco Sì perché pazzo Che ha buttato Una bottiglia d'acqua a terra Una bottiglia di vino a terra Per scappare dalla paura Si è tagliato la zampetta Tre punti Sui polpastrelli Niente razzi New World Non funziona Morto Totalmente E a me non fa più gioinare Quindi va a fanculo È finciato È finciato Sì 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 Aspettiamo altri dieci minuti E giochiamo a Valorant Se vuoi venire Oddio Dovrei installarmelo Su questo pc Cavolo A sapere Poi stiamo a giocare Un pochettino Signora Alduccio E a me mancano 600 mega Nel frattempo Scarica Ah lo stai installando Ancora No io lo sto Scariando Sto aggiornando Lo so Chiaretta Vicino Tra l'altro Adesso tieni la zampina Tutta Con lo scotch Carta Per mantenergli La fasciatura Che se la stava mangiando E ogni tanto Vedi che questo Zoppica Si lecca Cerca di Si leggevano un'altra Lecce che stava dando Problemi Ma tantissimo Sta dando problemi A tantissimi Tranne ai big streamer Ovviamente che Probabilmente loro Avranno qualche Canale privilegiato Perché giustamente Cioè power Con 3009 Con 3600 persone Ovviamente loro Non possono stare lì Dietro Ad aspettare Ah tra l'altro Signor Aldo Se vedi giù Nelle informazioni Del canale Ci sta un'altra roba Che puoi riscattare Con i bittini Ovvero Cambiare la mia voce E là Lo fa automatico Non ci metto Voice mode Esatto Voice mode Con l'integrazione Twitch Se tu risprendi Quei bittini Se tu che sei sub Puoi anche spendere Né di meno la metà Del costo originale Per ogni 30 Ogni 15 secondi Per una determinata voce Vi faccio un esempio Veloce Tipo Con questa qui No 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 Ti si sente anche da Discord Per dirti Ovviamente L'ho fatto in modo tale Che senti anche da Discord Perché deve essere così Signori miei Qui Al contenuto proprio Solo alto contenuto Di degrado Di degrado Cioè Di che stiamo parlando Perché essere seri Oh Grazie Grazie Chiaretta Con l'hosting Di una persona Ma grazie E purtroppo Ancora questo Anche perché 175 euro Per le grafiche nuove Perché sto usando La stessa grafica Un po' per tutto Con lo stesso suono Un po' per tutto Ogni supporto fa bene Assolutamente Aldo Noi apprezziamo Se hai detto una cosa Di che cosa Questa Aspetti Lei continua a parlare Ah ok Va bene No Ok Che sei Che sta succedendo Non lo so Oh mio dio Oh mio dio Io ho tanta paura Che cosa stai riscattando Signora Chiaretta Qui abbiamo creato Un mostro Tu non lo sai Ma il nostro Amico Aldo E' un pazzo Scatenato Che si mette lì Tranquillo Non sono fuori I tarocchi Addirittura Mamma mia Mamma mia Allora Chiaretta Non so se Non penso Tu abbia mai visto I tarocchi Dell'incubo Allora Io vado pazzo Per Dylan Dog Andando pazzo Per Dylan Dog E' uscito In un'edizione Di vari mesi fa La raccolta Dei tarocchi Targati Dylan Dog Che sono questi qua E quindi Stavamo Già in pieno Live Quindi che fai Non le metti Come cose riscattabili Ovviamente si E quindi Io leggo il futuro Leggendo Tramite la lettura Delle carte Dei tarocchi E Aldo L'ha appena Dylan L'uomo perfetto Esatto Esatto E' vero E' un po' sfigatello Pure lui Che si innamora E poi muoiono sempre Queste sue fiamme Nascono e muoiono Nel giro di un albo Praticamente Le sue storie Non durano Più di Due Tre Albi O Aldi O Aldo Allora Signor Aldo Lei Signor Aldo Cosa vuole sapere? Il mio passato No Il tuo passato No Il tuo Questo qua Legge il passato Presente e futuro Su cosa la vuoi Su Su cosa Sulla vita Su amori Su cosa Dobbiamo fare Questa Lettura Delle carte Allora Iniziamo Mettere Abilitiamo Le carte Che tra l'altro E' saltato tutto Wow Tutto bianco Si vede Perfetto Eh cazzo Si si è saltato Un po' tutto Vedo Aspetta Ok ci siamo Eccole qui Ci sono Allora Signor Aldo Abbiamo mescolato Le carte Faccio vedere Che le spacchiamo Guarda qui Spaccate E ora La carta Del potenziale Di Aldo La carta Del potenziale Di Aldo E' Aspetta E' Il mondo Aldo Il mondo Ma Stai facendo venire Gio Gio Reference Eh Allora Che cosa Che cosa Dici Allora Conosci ovviamente Gio 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 Rabbit No Gio Gio No Gio Gio Esatto Ecco Appena detto Il nome Dello stand Dello spirito Dell'antagonista Chiamato Dio Detto così E' molto Ah ok Ok Allora Mi sento molto onorato Eh perfetto Allora Il mondo Che cosa rappresenta Rappresenta La perfezione Il compimento La Diciamo La ricompensa La riuscita In un'impresa Quindi Il tuo potenziale Diciamo E' quella lì Di essere No Perfetto Perché nessuno È perfetto Però magari Riuscire ad arrivare A una perfezione A riuscire Nelle imprese Magari ti dai Una sfida E la riesci a portare A compimento Però adesso Vediamo La carta del passato Che cos'è Qual è la carta Del passato Di Aldo La forza Signori La forza La forza Dove sta Oddio Ho perso la forza La forza È la numero Undice Eccola Qui La forza E giriamo La carta Della forza La forza Diciamo Che è l'integrità Morale Il coraggio No L'energia E la potenza Quindi tu In passato Appunto Per il tuo potenziale Di riuscire Nelle imprese Avevi molte energie E coraggio Nel riuscire a fare Appunto Portare a compimento Queste sfide Quindi Quindi in passato Tu eri molto forte Infatti guarda Che tra l'altro Si vede dalla carta Che c'hai Il riflesso tuo cattivo Che riesci a scacciare Con la forza Con la forza Bruta Che rappresenta Appunto Rappresentato dalla carta Adesso vediamo La carta del presente La carta del presente Oh Aldo È proprio quella là Che rappresentante Un po' tutti noi Il matto Signor Aldo Il matto Il matto Che cos'è Pazzia Eccentricità Spensieratezza No? E quindi Siamo un po' tutti quanti così E rappresenta anche un po' Il viaggio E un po' di confusione Perché il matto Ovviamente è un po' confuso Quindi magari Attualmente Sia un po' confuso Su qual è la tua prossima sfida Nonostante tu Sia una persona Che riesci a portare A compimento Le varie imprese Con la tua forza Avuta nel passato Attualmente Magari Non hai Una sfida Attuale Da portare A compimento E vediamo adesso Cosa ti riserverà Il futuro Bella carta Un'ottima carta Ed è Il carro Il carro Che è questa qui Signori Il carro Il carro rappresenta La vittoria La conquista E l'evoluzione Che rappresenta Come possiamo vedere È ben collegata A tutte le altre carte Perché effettivamente Questo ci fa capire Che quando sarà Che avrai la tua prossima sfida La porterai A compimento In una grande vittoria E una conquista Per te stesso Nonché anche Un'evoluzione Magari Una crescita Personale E quindi Possiamo dire Che tutto È ricollegato A questo tuo potenziale Per portare A compimento Le sfide Però adesso Vediamo lo scopo La carta finale Quella in basso Lo scopo Della vita Di Aldo Visto che Qual è La carta È Aspetta La giriamo Eh gira Ok È la giustizia Signor Aldo La giustizia Il tuo scopo Quindi Quello qual è Quello di portare Equilibrio La legge L'equità Quindi L'ordine naturale Delle cose Quindi tu Praticamente Il tuo scopo È quello di Riuscire a portare Sempre Ordine E legge Quindi magari Il tuo scopo Appunto Riuscendo a portare A compimento La Le tue imprese Le tue sfide Porti A un equilibrio Giusto Ed equo L'intero Universo Magari Sei un eroe Della Marvel E noi non lo sappiamo Aldo Quindi io direi Molti segretti Esatto Esatto Io direi anche Non so se Chiara è ancora qui con noi Che la lettura delle carte Per Aldo È positiva Signor Aldo Giriamole tutte quante Grazie Aldo Per aver Partecipato a questa lettura Delle carte Per te le carte Sono molto positive Che letture di carte Hai visto Le stronzate che dico Chiara È qualcosa di Magnifico Torniamo In just chatting E ci ritroviamo qui E niente Allora Valorant Ha finito Quindi possiamo Anche passare A giocare A Valorant Bene Io la guarderò Giocare Mentre a me Si sta installando Esatto Esatto Allora Non so se ti faccio vedere O vedi Dalla live O la vuoi vedere Dalla live Guarda Guarda Dalla live Guarda Dalla live Dalla live Perfetto Perfetto Aspetta Prima di cominciare Non hai per caso Ho sete Non lo so Dimelo tu Ho sete Signor Aldo Guarda Secondo me Sì Guarda Hai sete E allora Noi Prima di Signori Quando si appresta Ad attaccare il nemico E a conquistare Le loro basi E piazzare delle bombe Bisogna essere molto dissetati E quale miglior acqua Se non acqua L'acqua L'unica acqua Con il doppio delle Q Per il doppio del dissetamento E avere il doppio della forza Io andrei a mangiare Che sto a digiuno Eh ma Mi sa che anche io Fra poco Fra una mezz'oretta Mi vado a prendere La roba da mangiare Che avevo preparato Per la live di New World Che avrei detto Guarda Facevo dalle sette Fino a notte inoltrata E mangio durante la live Ma purtroppo Non ho funzionato Questa è che sarà un po' difficile Esatto Però la roba Me la mangio stesso Sempre in live Però magari Mentre stiamo giocando a Valorant Comunque Ottima acqua Ottima acqua Allora abbassiamo un po' Il volume Di sto gioco Che è un po' Al chiuscio Mentre Io Mentre lei giocherà Io le porterò un po' Di compagnia Che cosa Che cosa mi fai Che cosa mi fai Valedetto Non ti vuole far nulla E se guarda Lo face sempre Allora Aspetta Aspetta Mettiamo game Però dobbiamo un attimo Mettere il gioco Che Valorant Non più Questa Ecco qua Posso attiviamo la chat Eccoci qua Ci siamo Allora che mi stai dicendo 50 minuti Mi dà proprio una sensazione Di Di odio Giocherò molto presto Esatto Ma mai sette ore Come stavamo facendo con New World Guarda È una cosa assurda È veramente assurdo Beh allora Nel frattempo Mi faccio Che la sta giocando A LOL Guarda Questa gente Gioca a LOL Non chissi Tutti a LOL Cioè mannaggia Che schifo Di giocare Ragazzi Ravendo LOL È qualcosa di Orripilante È qualcosa di Orripilante È vero Orripilante Mannaggia Allora Aspetta Fammi togliere un attimo La chat da Whatsapp Che mi stanno Mandando messaggi Aspetta Comunque Volevo dirti Hai presente no Che purtroppo Groovy E anche Rhythm Sono stati Cioè sono Offline Perché Youtube Mannaggia il suo I diritti d'autore Ah sì Davvero E quindi Non sono più utilizzabili No Quindi praticamente C'ho due bot Che non funzionano Quali April No April No no Tipo Anybot Groovy E Rhythm Non ce l'hai più Rhythm No non ce l'ho Ma nemmeno Groovy Groovy qual era? M6 No non è quello Mi sa che abbiamo Già tolto in passato Quindi stiamo a posto No no Groovy c'è ancora Però è offline Ah è offline Vabbè noi stavamo Quell'altro Per i bot Quell'altro La M6 Vabbè Groovy È stato un piacere Averci deliziato Con la sua musica Ah infatti Sì sì lo vede Sì sì lo vede offline Anybot Groovy E vabbè Che dobbiamo fare Per cui c'è Sede Io stavo pensando Tu mi c'hai neanche io Fare live Cominciare a fare Il piccolo stream Si può fare Perché non farlo Allora Esatto Viste che adesso Ho la macchina Per farlo Davvero? Finestra Conferma Ok Allora Nel frattempo Vediamo Facciamoci una partitella Nel frattempo Tu arrivi Lasciamo non competitiva Gruppo chiusa No Allora Ok Andiamo In coda No pure è qua la coda Ti prego No Aldu Anche qui c'è una coda Mio Dio Comunque Aldu Io non vorrei dire Non vorrei dire Ma se guardiamo Alla classifica Dei bit Qualcuno ti ha superato No Allora Cioè Io non vorrei dire Non vorrei dire Ti ricordo Quali sono I comandi giusti Da fare Se vuoi sbloccare Qualcosa di particolare Perché non ci siamo capiti Eh Allora Meno qua Non va bene Partita trovata Oh partita trovata Signore No Slayer In realtà In realtà Proprio chiuso Lo Mi dice sempre Che Li troverò Che non c'è Il connessione Quindi non mi vede Il personaggio Che ho creato Non mi vede i server Non mi vede niente E quindi Vaffanculo Eh Dove parlare Se contiamo Tutti i bit Che ho mio donato Sono 376 Ah davvero Ciao Chiaretta Buon appetito Ci vediamo dopo E E niente Quindi stiamo giocando A Valorant Per ora Insieme ad Aldo Appena potrà Anche lui Giuocare Con noi Se vuoi venire Slayerone Se è il benvenuto Discord Non so se ce l'hai Comunque Puoi trovarlo Nei nostri link Nostri Mannaccio Mi viene sempre Stasosa Nostri Nei link social Link 3 Trovi il disco Ma pare già ci stai Quindi se vuoi venire Anche qui in chiamata A me fa solo Più che piacere Stasera Stasera va così Questa live Un po' particolare Che doveva essere Sì 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 Scopriamo il nuovo mondo Ah tra l'altro Ancora in categoria New World Sono doppiamente stupido Mettiamo Valorant Non è ma Non per caso Perché ormai Un gioco Qui inizia con la F Quel maledettissimo Gioco con la F No Quello no Beh Da ora ti meriti Millebit No scherzo Eh Con millebit Devo ancora trovare Qualche scena Automatizzata Per i millebiti Allora Allora Ci montiamo La post Dai Ricarico Sono un giga Ricarico Dai dai Ce la possiamo fare Oh Mani in alto I cinque secondi di avvia Ti odio Mi devo mettere qualcosa Che mi faccia Dei suoni Perché Su sta cosa Controllo più avanti Ah ho Scazzato proprio Sì Oggi mio Oh no Slayer Ma Slayer Slayerone esatto Allora signori È quello che mi ha superato Con i beat È lui Tra l'altro Il signor Slayerone Noi giovedì Faremo una live Insieme Perché anche lui È streamer Ah ok Brava Questo Brava È certo che Supera Eh dai Prima Io sempre Prima In classica Eh Non vedo l'ora Ma se mi unisco Anche io Molestamente Cazzo dietro Merda Non vedo l'ora Sì di giovedì Di giovedì Però non vedo l'ora Nemmeno di essere superato Dai beat Quindi qua A gara di beat A chi riscatta le cose Vi ricordo Ma sono sempre queste Ultimo giocatore rimasto Allora Facciamo un po' Di variety streaming Partiamo un po' Di just chatting Ignorantissimo Magari con queste nuove A cose che ha messo 30 secondi rimasti Cambio voce Eccetera E poi portiamo Un paio di giochini Però non ti spoiler Quali giochini Portiamo vari Quelli di Quelli di Che fanno ridere Che Ignoranti Come siamo io e lui Praticamente Ci divertiremo Giovedì sera Dovrebbe essere Visto che c'è la partita E non vado ad allenarmi Probabilmente faccio Anche prima Delle dieci Solite Forse nove Nove e mezza Ma vediamo La sera più che altro Oggi dove essere New world Non c'è Per lì Ci hanno fregato Ti rischio di risettare UBS Per le cose grafiche Addirittura Stai diventando anche tu Veramente Streamy stesso Ora Adesso Colpite Ti stai preparando Signor slayerone Qui anche Anche lui Si sta preparando Allora In tutto questo Dobbiamo fare così Guarda Però che magari Mi freddo Io sono Po Ha funzionato Questo Perché questo Qua E' una shot out Fatto sempre Con la lyre On board Sleayerone È bello Ha funzionato Funzionato Bellissima Rivelo l'area Il disattivo Nel salvo Nemico soppresso Ormai ho messo Quello che metto Di google Così non mi Non identico mai più L'account Perché me lo dimentico Fai prima Ricarica Ok Allora Allora Start live Start stranissimi Ok Just chatting C'è Perfetto Per New gaming C'è 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 Ho anche una Scena Proprio per Problemi tecnici Tipo Lascio una musichetta In sottop Credo se c'è Qualcosa C'è un problema Quale Poi Hai bisogno Quella dell'ascensore Quella classica Ah la musichetta Ascensore Attento che là Ti partano gli strike Oh Sono rimasti Oh no Siamo rimasti in due Vabbè Moriremo Moriremo Aldo muoviti Che stavo in random Non mi trovo a giocare Muoviti Dai internet Cerca di fare Il più possibile Rivelo l'area Ma Siamo due giga Su otto eh Cerca di quella soundtrack No copyright Sì Eh va Esatto Allora io non c'ho Molte soundtrack Cioè Ho cercato molte soundtrack Copyright Però tipo per A meno Cut Per l'A meno Cut Purtroppo mi sa che parte Eh vaffanculo Eh vabbè Ci abbiamo provato Ci abbiamo provato Tecnicamente Da quanto so Non ti danno il copyright Se non salvi le stream Nel canale Esatto Solitamente lo strike Di parte O nel VOD O nel Su YouTube Se la metti su YouTube Ma magari Abbassi l'audio Solo di quella parte Tre strategie più vincenti E sti grandissimi cazzi Non so se prende Mi carico Mi carico ancora qua Che sto Come vuoi Chattare su Twitch Oppure creano Uno da zero Eee Dipende Che ho fatto Nel 17 gennaio Di Undertale Vabbè Però se tu già C'hai fatto qualcosa Qui Io vabbè Io ho switchato canale Perché questo qui C'aveva il L'affiliato Con il Dino Scraucy Perciò sono Spostato l'account Infatti se vedi C'è l'underscore Di merda Che odio Che Non Non mi piace Però devo aspettare Un altro paio di mesi Vabbè Spike a terra In atto Ostile cancellato Corro su Guardate un attimo Che Ho una cosa chiamata Flashbang Vai vai Non ti preoccupare Arrivo Ho subito poco Vai 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 tranquillo Io dovevo rimanere fermo Non dovevo toccare Nessuno può sfuggirmi Oh Salve Scarlet Banana antistress Al rapporto Bellissimo Bravo Così ti voglio Come va Allora Incazzato Perché New World È crashato Stavo in coda Era al Tremilesimo È crashato a tutti E niente 10.000 persone Insieme siamo più forti Non dimentichiamolo Siamo qui A giocare a A Valorant Ci Vanda Sì esatto È un newscam Ma a molti Incazzato Se giovi pure a Valorant Esatto Tra l'altro mi sto facendo Del male fisico A giocare a Valorant Perché non sapevo Che altro portare O non facevo la live O non facevo la live Però non mi sembrava il caso Almeno facciamo qualcosina insieme O Non so Visione bloccata Oh Oddio sono poco reattivo ragazzi Eccolo E' ritornato Manca un solo nennico Vabbè Peccato Finalmente Chi è questa Scarlett? Ciao No Chi è questa Scarlett? Ah ma Chi è Piacere Piacere Risvegliate i vostri sensi Lui è Aldu Esatto Scarlett Lui è un anziano Del canale Il signor Aldu Che è stato qui Da secoli In memory E Scarlett Invece è arrivato Da poco E E E qui In canale Vocale Tendenzialmente Non faccio live Con canali Con persone In canale vocale Però visto che oggi Devo giocare a New World Quindi con magari Gente in party Mi sono messo qui E quindi Chi vuole venire Ci siamo tutti quanti Facciamo quattro chiacchiere insieme Senza Alcun problema Anche perché E' molto raro che veda Quattro chiacchiere Su questo Esatto Io speriamo Che magari In futuro La gente Inizia a entrare E questo canale Si inizia a ripopolare Esatto Poi no Anche uno mio Di serve Che è abbastanza C'è un po' di genio Ah si Davvero Cazzo Troppo una mano di merda Comunque Signor Scarlett Ovviamente Ci sono Novità Ce l'ho fatta a fare Escoteca Che puoi riscattare A 200 obbittini Non posso fartela vedere In anteprima Solo una volta gratis Ho fatto per Meo Vaffancazzo E Ame Perché Purtroppo Escoteca Ha un algoritmo Tutto particolare Che si Uuu Eccolo lì Lo Tiranno Scrauso Scalfo Ti ho visto Stavi giocando Con il gioco De me L'ultimo giocatore Rimando Ti abbiamo visto Ti abbiamo visto Pazzo Esatto Comunque te lo giuro Dal vivo Sei totalmente diverso Intendo di acconciatura Infatti non ti ho riconosciuto Hai visto? Eh Molti mi hanno detto Che da Perché vabbè Il fatto è che Questi acconciatori Sono un po' particolari Non è che mi metto lì Ad aggiustare A sistemarmi Per quando devo uscire Fondamentalmente E poi la telecamera Comunque luci E altra roba È un po' diverso Momento decisivo Momento decisivo Momento decisivo Abbiamo Nemici vicini Lui l'abbiamo perso Bravo Ah lo Scarf Lui è Scarfone Sto provando ad aggiornare L'avvento Scarf Ti aspettiamo Lui siamo io e Aldo Qui Magari Quasi non facciamo Un party premade Meglio Rispetto a party run Ho anche le cuffiette Quando stai su Twitch No Ah tra l'altro Sì ho anche le cuffie Quando sto su Twitch E quindi questo Mammone gigante Che vedete qui E niente Se riscattate i canali I bittini Vi beccate Così Diverto 35 minuti 3 giga su 8 Dai Ce la possiamo farlo Ah ma beccato Eh vabbè Ci vorranno 8 anni Oh no Scarfone Eh vabbè Noi ti aspettiamo Noi qua stiamo Noi scappiamo Tra l'altro Il titolo è rimasto Sì Scarf Se non puoi cambiare il titolo Mettiamo Dovevamo scoprire Aspetta Anzi lo cambiavi Se sono morti Ultimo giocatore rimasto Allora Dovevamo Scoprire Manca un solo nemico 3 uccisioni Ma c'è Assembramento E Andiamo Altrove A posto Ci siamo Ritorniamo in game Perfetto Quindi Scarlet Ovviamente Tu c'hai Ah Scarf Non so se lo sai Ma Scarlet ha comprato Scarlet Set Ha comprato la banana Antistress Che tu hai linkato Nella live precedente Noi qui abbiamo La tetta antistress Dov'è che l'avrei presa Meglio che non Non lo so nemmeno io Infatti mi serve perché si è sfondata questa Me ne devo comprare una nuova Voto 10-10 Eh beh Eh beh Ci sta Ci sta Perché veramente è più stress Ah grande Bravo Bravo Badding Adoro la guerra Adoro la guerra Va bene Allora Quanto Ricarico Ok Andiamo Corri Corri C'è il tappetino È vero L'ho visto Però purtroppo Per come sto appiazzato io Non 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 Merita Non meriterebbe No Purtroppo no È un peccato È che quello è veramente D'altra cosa Eh sì Vediamo Io meglio di no Perché sono Sono Ho 14 anni Se avrei capito Esatto Non sono molto adatto Perché Cazzo No dai Ce la puoi fare Credo No niente No niente Sono morto No che arriva Questa seconda È vero A te arrivi Arrivederai Niente 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 Niente